oggi mi trovo alle isole canarie a tenerife in particolar modo sono ai piedi del vulcano teide che è quello là in alto oggi faremo la salita al vulcano teide un piccolo trail running sono 1300 metri di slivello vediamo un po come andrà dai la giornata si prospetta bella il tempo è bellissimo fa caldo siamo già a quota 2.000 passato la metà di salita primo tratto molto semplice e corribile la seconda metà invece sale molto più ripeto siamo arrivati intorno credo il 2007-2008 di quota siamo arrivati a rinforzare qui a vista siamo intorno a 3.100-3.200 metri il rifugio è chiuso però devo mangiare qualcosa a riposarci, acclimatarsi, a farci un pezzo quella è la vetta del teide il rifugio è chiuso ma 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 grazie a tutti Grazie a tutti. Arrivata sul punto piazzo del Teide, purtroppo non sono riuscita a prendere i permessi per salire fino alla vetta, che è quella là, e quindi ci accontentiamo dei 3500 metri.